E sono quindi ufficiali anche i nuovi iPhone 15 base con il 6.1 e il 6.7 pollici della variante di iPhone 15 Plus. Tante cose sono state dette durante la presentazione ma tante altre o non sono state citate oppure si è sorvolato un pochettino e secondo me è giusto parlarne un po' meglio. Quindi sono andato online sul sito Apple e ho cercato tutti quei piccoli dettagli, tutti quei piccoli particolari che magari non sono stati detti durante la presentazione. Iniziamo appunto dai colori perché questo sì è stato detto durante la presentazione che ci sarà il nero, blu, verde, giallo e rosa e vedete fin da subito che sono dei colori dove manca il bianco e la product red. Due tonalità che sono iconiche e sono sempre quasi sempre state presenti al lancio dei nuovi iPhone specialmente quella bianca ma anche la product red che era una colorazione realizzata in collaborazione. Insomma staremo a vedere perché secondo me queste due colorazioni potrebbero arrivare successivamente magari con dei colori in primavera. Poi un'altra cosa interessante è come queste nuove tonalità siano molto tenue, sono dei colori pastello e soprattutto cambia un pochettino come viene realizzata questa colorazione perché il vetro posteriore non è più un vetro glossy ma è leggermente satinato, è leggermente opaco e un pochettino riprende lo stesso colore che avevamo con gli iPhone 14 Pro con questo back cover un po' più opaca. Un'altra cosa che cambia è lo schermo perché avete sicuramente visto la presentazione non c'è più il notch e abbiamo la Dynamic Island ma in realtà cambia proprio il pannello perché è una tecnologia differente oltre a portare questa Dynamic Island ma cambia anche la risoluzione. Pochissima roba in realtà perché il precedente iPhone 14 aveva uno schermo di 2532 per 1170 pixel mentre il nuovo iPhone 15 2556 per 1179. E quindi questo vi fa capire che anche qui in realtà di pochissimo sono state diminuite le cornici quindi i bordi laterali sono leggermente più sottili passando dall'iPhone 14 all'iPhone 15. È quasi impercettibile però comunque c'è un miglioramento anche da questo punto di vista. Un miglioramento molto più importante però l'abbiamo sul pannello in sé perché è molto più luminoso perché ad esempio ci sono un po' di dati online e si legge come la luminosità massima tipica quindi quando noi banalmente portiamo la luminosità manualmente al massimo sull'iPhone 14 fosse al massimo di 800 nits mentre sull'iPhone 15 1000. Quando però andiamo a guardare i filmati in HDR la luminosità di picco è di 1200 nits e sull'iPhone 14 e 1600 sull'iPhone 15. Su quest'ultimo modello quindi sugli iPhone 15 base e sui 15 plus è stata però portata una funzionalità che precedentemente era presente soltanto sugli iPhone 14 Pro ovvero la luminosità di picco outdoor quando siamo sotto luce diretta del sole e con i nuovi modelli si raggiunge un picco di 2000 nits una luminosità molto molto elevata. Che sicuramente consente di vedere un po' più facilmente il nostro schermo. Vi dicevo che cambia la parte frontale con uno schermo differente ma cambiano anche le dimensioni anche qui pochissima roba che però rende incompatibili le vecchie cover perché comunque l'iPhone 14 aveva un'altezza ad esempio di 146.7 mm mentre l'iPhone 15 147.6. Per il resto invece è molto simile anche per quanto riguarda il peso perché sui modelli Pro di iPhone 15 c'è stato questo cambio dove è stato introdotto il titanio che ha reso molto leggero lo smartphone ma non è leggero tanto quanto l'allumino che abbiamo presente sugli iPhone 15 che sono diventati ancora più leggeri rispetto al passato. Poca roba un grammo perché l'iPhone 14 pesava 172 grammi mentre l'iPhone 15 peserà 171. Praticamente non vi accorgerete mai della differenza se ci riuscite davvero vi faccio i complimenti. Comunque prima di continuare vi chiedo un piccolo favore ovvero quello di iscrivervi al canale e anche di lasciare un mi piace a questo video perché supporterebbe davvero tantissimo nel mio lavoro. Durante la presentazione Apple ha mostrato come ha preso la fotocamera dell'iPhone 14 Pro e portata sui nuovi modelli di iPhone 15 base quindi il normale e quello plus. Lo ha fatto portando questo nuovo obiettivo da 48 megapixel che porta delle funzionalità molto interessanti ovvero quella possibilità di croppare un'immagine con uno zoom 2x e avere comunque una foto di una buonissima qualità da 12 megapixel. Sul sito però Apple dice che c'è uno zoom ottico 0.5 quindi la lente ultra wide 1x quindi con la fotocamera principale e 2x. Secondo me non è giusto perché lo zoom ottico non è 2x non è uno zoom ottico 2x è uno zoom digitale che comunque mantiene una foto con una risoluzione buona da 12 megapixel. Però mi fa strano che l'abbiano voluto uscire così. C'è da dire che l'immagine che viene scattata con questo zoom 2x è molto molto buona specialmente anche se si va a confrontare con altri brand che fanno sempre un crop dell'immagine perché il sensore è molto grande. E poi soprattutto c'è una tecnologia software che è molto molto intelligente e si ottengono delle immagini davvero di altissima qualità. Però comunque mi stanno un pochettino chiamarlo zoom 2x. Una cosa che però è importante è che secondo me sarà fondamentale quando andrete a comprare i nuovi iPhone 15 è che la USB-C presente sui iPhone 15 base è differente rispetto a quella proposta sui 15 Pro. Perché Apple ha mostrato l'arrivo della USB-C con l'iPhone 15 ma soltanto con il 15 Pro ha spiegato che questa include anche un nuovo controller per la gestione della USB 3.0. Averlo citato con gli iPhone 15 Pro vuol dire che non è presente sugli iPhone 15 base perché sfrutta una tecnologia che è uguale rispetto a quella del passato che avevamo con la Lightning. Sicuramente poter ricaricare con una Type-C è molto molto comodo però comunque non avremo quelle velocità di trasferimento così tanto elevate che comunque sono possibili soltanto con l'iPhone 15 Pro. Quindi se dovete trasferire dei file molte volte con una velocità molto molto rapida allora vi dovete rivolgere verso gli iPhone 15 Pro. Però alternativamente se semplicemente volete la Type-C andate tranquillamente sugli iPhone 15 base. Anche perché comunque rimane intatta la possibilità di ricaricare altri dispositivi partendo dalla USB-C del nostro iPhone 15. Banalmente se noi andiamo a mettere un cavo che parte dall'iPhone 15 base o anche il Plus con una porta Type-C e poi lo portiamo su un altro dispositivo che magari possono essere delle AirPods Pro 2. Ecco che noi le possiamo ricaricare tranquillamente senza nessun problema. E visto che ve lo citate vi dico anche un'altra cosa perché durante la presentazione Apple ha mostrato appunto la possibilità di ricaricare queste AirPods Pro 2 tramite la Type-C. Sono un nuovo modello che tecnicamente dovrebbe includere soltanto la Type-C ma in realtà spolciando un pochettino sulle specifiche che ci sono online sono un po' diverse perché questo nuovo modello in accoppiata con il visore l'Apple Vision Pro consente di avere un codec nuovo molto particolare e avere una riproduzione della musica lossless ovvero senza nessuna compressione e con una qualità praticamente perfetta. Questa cosa sarà consentita soltanto con le AirPods Pro 2 con la Type-C. Per il resto non cambia davvero nulla se lo utilizzate con un MacBook con un iPad o anche con i nuovi iPhone 15 buzzer non cambia assolutamente sono uguali al passato semplicemente hanno la Type-C che è molto comoda. Infine c'è una cosa un po' particolare un po' strana perché dall'iPhone 12 Apple ha introdotto la tecnologia MacSafe ovvero ha posizionato dei magneti sulla coil per la ricarica wireless che consentono un posizionamento perfetto quando andiamo a mettere un cavo o lo mettiamo su una basetta di ricarica. Questa è stata una cosa talmente comoda che lo standard per la ricarica wireless Qi è stato aggiornato alla versione 2 e nella versione 2 ci sono dei magneti e quindi praticamente è identico al MacSafe. Tecnicamente quindi i nuovi iPhone 15 sono compatibili con la tecnologia wireless Qi di seconda generazione ma secondo me non l'hanno potuto dire durante la presentazione perché non è una cosa completamente ufficiale ovvero il lancio della tecnologia wireless Qi 2 non è completo al 100% avverranno i prossimi mesi e questo tecnicamente dovrebbe consentire la possibilità di ricaricare i nostri iPhone 15 anche con accessori di terze parti fino a una velocità massima di 15 watt. Prima era bloccata fino a 7.5 ma con il fatto che supportino questa nuova generazione dovrebbe arrivare a 15 watt. Non è una cosa ufficiale però tecnicamente dovrebbe essere così quindi se ci dovessero essere degli aggiornamenti sicuramente faremo un video dedicato ve lo farò sapere quindi seguite il canale perché ci sono delle cose importanti che verranno secondo me o annunciate o sbloccate durante i prossimi mesi. Comunque questo era tutto per questi piccoli segreti, queste piccole cose, dettagli che sappiamo adesso sull'iPhone 15 base e il 15 plus. Come sempre vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!